scommetto scommetto di dire buongiorgio buongiorgio signori e signori a voi buongiorgio eh e Batolini? da te Batolini? ha cangiato l'ocale ha cangiato l'ocale non ha fissato? no dove sta Batolini? ha un panuchiere qua vicino ha un panuchiere qua vicino però mi viene da cucinare e faccio pace è un sacco però me lo volevo sotticare di più ah il nuovo collega il nuovo collega prego Lello andiamo anche secondo me vengo un po' al primo accordati caro si caro da quanto tempo? eh lo so caro mio si è stato bloccato? eh vuole la scaccia d'azione gliel'ho detto ah ok la fidanzata albanese ti dice? ma che è? ce la conosce albanese mi viene da trovare? assolutamente ho sentito la fidanzata albanese sentito di cosa la fidanzata albanese la trovo però una bionda bella carina bel fisico quando arriviamo in albanese ha detto che si troverà la fidanzata ho pure la comare a mediagore però c'è una molto migliore ti stuzzica ti stuzzica l'appetito esattamente tutto a corto grazie tutto a corto grazie tutto a corto grazie ti posso lasciare la riga? no va la pena che riga vai tutto a corto tutto a corto tutto a corto va bene sei pieno di capriccio oggi eh? sono sempre sono sempre sono nato con i riccioli caro mio sono nato con i riccioli penso che però le provi in frischietta a noi penso tutti i riccioli si 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 capirle ricerice ricerice brava nanuccio ma io vuoi che li chiamo nanuccio o bananuccio? come vuoi li chiami? per gli amici possono essere quello che vuoi anzi quello che vuoi tu bananuccio quello che vuoi o no? Belli cotti, una bella spingata, bella cotta, bananone. Va bene, amico mio. Da quando hai lasciato il tabernello? Sì, è smalzato. Il tabernello si lascia il brodo. Il tabernello si lascia il brodo. Il tabernello basta... Sono andati che vogliono bene. Ma quest'estate mi porto io e la mia famiglia e la mia famiglia è anche la mia famiglia. Si è andata abbastanza bene però devo salutare una carissima amica. La Gio. Che lo sa? Una carissima amica, la Gio. Ma Gio, te lo dico. Ma sono bello? Sì. Ma la Gio. Abbiamo capito. Valentina non c'è più. Che che l'ha detto a te? Ma pure Valentina? Che mica quella è Valle. Ma tu non mi porti mai, proviamo con Gio. Mi faccio bello per Gio. Ecco, ecco, ecco. Eh, caro mio. Mi faccio bello per Gio. Chissà che tu veramente lo puoi più dalla pagina, eh? E poi ci si chiama. Ma mi faccio bello per capire. Esatto. Ecco, c'è? E oggi c'è un po' di nuovo. E' vero? E' vero? E' vero. E' vero? 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 E' vero che quella di nuovo? E' vero? quello con la vista panoramica che sembra di scopo avanti, quello che si muove Gio mi sto facendo bello per te Gio, mi raccomando Gio eh, frusco, non dico tutto il nome, dico solamente Gio frusco, ti saluto bene, Benny Capossi ah, il tuo cugino, il mio cognato, Benny, ah, bene, voglio bene, Benny, Benny Capossi e salutamelo a Benny Capossi, 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 non toccare le fanno eh a Benny, ah, Baben, cioè Baben, 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 toccare le fanno io voglio andare al centro massaggi centro massaggi, ma in italiano o cinese? si, quello la eh, questo voglio fare, dai ok, d'acqua, facciamo un'altra cosa? facciamo col phone prima, mi sei un po' scopo? no, che fa, che fa e tu di sua schiena, lo vediamo? si, che fa aspetta, 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 un secondo eh, Gio ah, ti ho messo una gelatina tipo tua? eh eh io a lui ti piace la Capotefil, quindi ho innamorato che la Capotefil ma adesso, che ne pensi questo tragio? è abbastanza bello, si ti piaci? eh, si che mi piaccio va bene? va bene aspetta, Gio, mi raccomando, guardalo ho messo a che, a che eh? beh, ce le puoi spandare a lui, se la tornate lo stesso, come no vabbè, vabbè vabbè, vabbè ci vediamo al prossimo caso vabbè, come caci no? vabbè, davvero ho voto la terzia no, bello, mi ricordo che se non vendisci il canicero, come? proprio come continuiamo vendisci il canicero eh eh sto andendo Ma è un po' divertimento! Sempre!